Student Film Student Film, così ha definito Gianni Versace, la sua ultima creazione nel campo della comunicazione, ovvero un filmato di 14 minuti realizzato con la preziosa collaborazione di Bruce Weber, il famoso fotografo americano, grande maestro delle immagini sofisticate del mondo del cinema, musica rock e della moda. Amici da 12 anni e legati dal grande amore per la comunicazione d'avanguardia, Versace e Bruce Weber hanno deciso di raggiungere con queste immagini il mondo dei giovani, parlando dei jeans con un linguaggio semplice, che racconta come sono i ragazzi oggi, come si vestono, come vivono e come si divertono. La flista milanese ha scelto come protagonista un giovane attore americano, Jean-Claude Van Damme, che si muove in una sorta di danza magica tra mille fotografie, dedicate agli intramontabili miti del passato, un omaggio al grande cinema. Versace, Jeans Couture, ha presentato Premiere.